Il tumore al seno lo si può prevenire con la buona alimentazione. E questo è il messaggio di Assapora la Vita, l'iniziativa che suggerisce 30 ricette giuste per tenere lontano combattere la neoplasia che più colpisce il sesso femminile. Ma quante sono in Emilia Romagna le donne colpite da questa malattia? Sono circa tra le 3500 e le 3800 donne all'anno. Quante vincono la battaglia? Molte. Oltre l'80% delle donne operate per tumore della mammella vince la battaglia. Nella regione Emilia Romagna l'88% delle donne è viva dopo 5 anni dall'intervento. Uno dei migliori risultati di livello italiano ed europeo. La dieta dunque come fattore importante nell'insorgere o meno del tumore al seno? Una serie molto solida di prove scientifiche mostrano come il sovrappeso, obesità e in particolare un forte consumo di grassi si associ alla probabilità di avere tumori. Tutti i tumori, il tumore al seno è fra quelli che maggiormente risentono di queste errate abitudini alimentari. Frutti rossi, pomodori, rapanelli, verze, cavolfiori sono di solito i cibi maggiormente raccomandati. Quali alimenti consiglia per prevenire il tumore al seno e per convivere al meglio con esso? Lei ha messo in campo una serie di colori che sono i colori della frutta e della verdura e che sono sicuramente dei grossi alleati per prevenire e per curare il tumore. Sono cibi che contengono un numero di sostanze antiossidanti, antocianati, fitochemicals, quelli che vanno sotto il nome di fitochemicals, che sono dei potenti alleati nella terapia della neoplasia. Grazie.